skill bike nasce per il miglioramento prestazionale per quanto riguarda la pedalata apparentemente è una bici da indoor ma nasconde invece tutta una serie di caratteristiche fondamentali fondamentalmente è un misuratore di potenza all'interno ha un torsiometro che misura 33 volte il secondo la potenza istantanea sappiamo tutti che utilizzando la potenza e la cadenza siamo in grado di poter fare degli allenamenti specifici per tutte le persone altra caratteristica fondamentale sono le regolazioni rispetto a una classica bike le regolazioni possono essere fatte al centimetro quindi per tutti coloro che sanno in base alle proprie proporzioni ergonomiche sanno le regolazioni da fare è possibile regolarla in maniera personalizzata al cento per cento il cambio il cambio è come una bici da strada quindi con levette al manubrio e quindi si va a riproporre tutto quello è la classica bici da esterno su skill bike è possibile fare tutta una serie di test per andare a vedere le caratteristiche e la condizione del clienti e andare poi a monitorare via via tutti i miglioramenti dovuti all'allenamento che cosa è possibile fare oltre i tessi è possibile utilizzarla con allenamenti in autonomia quindi ogni cliente ha la possibilità di allenarsi in maniera singola seguendo il proprio programma di allenamento è possibile fare delle classi quindi allenarsi insieme altri clienti e queste classi possono essere fatte sfruttando l'allenamento o in pendenza o in potenza è possibile poi sviluppare l'aspetto ludico e sono le race quindi sono vere e proprie competizioni all'interno della palestra per vedere chi ha la condizione atletica e fisica migliore per tutti coloro invece che sono amanti della pedalata all'esterno utilizzando l'app strava è possibile poi connetterla alla bike e andare a riprodurre tutti quelli che sono i percorsi che si fanno nelle uscite esterne tutti questi parametri di lavoro tutti questi allenamenti è possibile poi memorizzarli sull'app technology un'applicazione dedicata che ci permette tenere memoria di tutte le sessioni che vengano fatte non vi resta che per venire a provare da noi skill bike